Oggi nella Commissione Agricoltura abbiamo ascoltato le organizzazioni professionali agricole circa le condizioni dell'agricoltura abruzzese dopo il maltempo di maggio e giugno. Due situazioni gravissime, quelle del Fucino con 13.500 ettari coinvolti in maniera forte che rappresentano un quarto dell'agricoltura abruzzese e poi tutto il resto della Regione, soprattutto per quanto riguarda il settore vitivinicolo, che è stato offeso in maniera forte e consistente per oltre il 60% dei danni con la peronospera. Le organizzazioni professionali hanno chiesto un aiuto al Governo regionale, purtroppo l'assessore imprudente è stato poco soddisfacente, soprattutto per quanto riguarda le risposte puntuali che Regione Abruzzo può dare. Voglio ricordare solo che questa Regione ha speso 9 milioni di euro per il Giro d'Italia, giustamente, 14 milioni di euro per il Napoli Calcio e non ha qualche centinaia di miliardi di euro per venire incontro alle esigenze degli agricoltori. Deroghe al PSR, aiuti finanziari, coperture assicurative con la Fira, la finanziaria regionale, una serie di interventi che Regione Abruzzo potrebbe mettere in campo, ma ad oggi la giunta regionale è rimasta completamente ferma, ha chiesto solamente lo stato di calamità al Governo, lo ha chiesto in maniera tardiva, le organizzazioni hanno richiesto lo stato di calamità da oltre un mese, ma purtroppo questa giunta è ferma e timida, investe molto sul Napoli Calcio e poco sull'agricoltura abruzzese.